Con un bel successo di pubblico si è aperto l'Organ Festival nella Basilica di San Francesco in Arizzo, la principale rassegna di concerti per organo che è inserita nel più ampio Terre d'Arizzo Music Festival. Abbiamo avuto la fortuna di poter inaugurare la stagione quest'anno relativa all'Arizzo Organ Festival con un concerto in questa splendida basilica, la Basilica di San Francesco, proprio davanti agli affreschi di Piero della Francesca con la storia della Vera Croce. Questo concerto, con tutta musica sacra, un repertorio fra 600 e 700, ha dei protagonisti davvero di grande livello, l'ensemble Andrea Palladio diretto dal maestro Enrico Zanovello. Dopodiché i concerti relativi alla serie dell'organo proseguiranno tutte le domeniche fino all'11 agosto qui nella città di Arezzo, sempre in chiese monumentali.